Di nuovo insieme care marchigiane, care italiane, ben ritrovati siamo in diretta, sono le 8, ci segnalano, e stiamo cercando di approfondire, notizia di pochi minuti fa, bonus animali domestici 2023, cos'è l'importo, i requisiti, il prossimo anno potrebbe essere introdotto un bonus del valore massimo di 450 euro per i padroni di animali domestici. Per adesso si tratta soltanto di una proposta avanzata dal partito Forza Italia che ha presentato un apposito emendamento alla legge di bilancio per introdurre un'agevolazione che potrebbe arrivare fino a 450 euro per chi abbia un animale domestico. Ripeto, è notizia di pochi minuti fa, pubblicata per esempio su questo sito bonus animali domestici 2023, mezz'ora fa approfondiremo, cercheremo di capire qualche cosina di più. Comunque è un'idea in questo momento in campo proposta da Forza Italia per la legge di bilancio che si sta discutendo in Parlamento. Diversi i messaggi stanno arrivando sulla notizia di pochi minuti fa, anche questa perché siamo in diretto appunto proviamo a raccontarvi quello che accade in tempo reale rispetto a questa scossa di terremoto che si è verificata dopo tanti fenomeni che abbiamo raccontato sulla costa, quindi in mezzo al mare, in particolare anche ieri domenica 11 di dicembre tra le 7 del mattino e le 11 per esempio ci sono stati alcuni fenomeni, se non sbaglio sei scosse. Ecco questa mattina alle 7 e 40 una scossa di magnitudo 3.2, zona Serravale di Chianti, ci scrivono dall'Umbria di averla percepita. C'è stata un'altra 10 minuti dopo ma molto più bassa nella zona di Cutigliano, quindi sempre in Italia ma nell'area del Monte Cimone, quindi siamo in Toscana. Le Marche, l'Italia, sono territori sismici e dobbiamo farci i conti. Andiamo alle notizie locali, sfogliamo insieme i giornali della questione 40 milioni per il ripascimento delle scogliere, abbiamo parlato, è una buona notizia, abbiamo raccontato anche di come verranno distribuiti questi soldi. Intanto, che succede per Natale? Strozzati da bolletto e shock, tremano i piccoli negozi, il Natale diventa l'ultima chiamata. Regali salva tutto, le associazioni di categoria lanciano la volata degli acquisti, non da oggi. Non da oggi, per esempio, come abbiamo spesso citato, con Fartigianato Imprese, Ancona, Pesa e Urbino, qui vedete il segretario Pierpaoli, ha lanciato l'idea di acquisti amo locale, comprare nel negozio sotto casa, dove troviamo certamente qualità e certezza dell'acquisto, mentre invece quando acquisti online non sai mai quello che succede. Risparmi e spesa al discount, famiglie in cerca dell'offerta, lo conferma Labaldi di Adiconsum, al Natale non si rinuncia, ma i regali saranno più ragionati rispetto agli anni passati. Altre pagine interne dei giornali, eccola qua, qui, attenzione, chiedevano soldi per i bimbi poveri, scoperti, falsi, sordomuti, sono stati denunciati due rumeni fermati dai carabinieri allo spazio Conad di Ancona, sequestrati, moduli fake e 100 euro, ma avrebbero compiuto colpi del genere anche in altre zone delle Marche. Questo è il modulo sequestrato dai carabinieri, qui facciamo i complimenti, perché chiedere soldi per finte opere di carità è veramente una roba vergognosa, un presunto pseudo certificato regionale per persone non udenti. Se vi presentano questo modulo, non firmatelo, anzi, dite loro, non ci casco. Pagine interne, addio Frullini, siamo a Falconara, l'esempio di coraggio, tutta la vita spesa contro la malattia. Colpito da distrofia muscolare, pensate, quando aveva solamente tre anni, ha lottato per sconfiggere patologie neuromuscolari, fino al traguardo del centro NEMO che è stato inaugurato anche grazie al suo enorme impegno. Qui lo vediamo con il sindaco di Falconara, Signorini, che saluto a destra, inconfondibile, con Papa Francesco che lo aveva accolto in sala nervi. Osimo, sulla finestra spunta il guanto di un ladro, i padroni di casa urlano e lo fanno fuggire. Immaginate che strizza, che paura, sciocchi in una villetta di San Giacomo della Marca. Subito scatta il tam-tam sulla chat di quartiere, una mano con guanto che appare sul davanzale, e allora scatta l'allarme. Albero sulla scuola, incubo famiglie, ora mettete in sicurezza quei pini. In agitazione i genitori degli alunni della Garibaldi di via San Giuseppe, prima viene la sicurezza. L'allerta meteo esteso alla giornata di domenica, che fortunatamente non ha fatto danni enormi, se non questo, per fortuna era una giornata di chiusura della scuola, altrimenti non vogliamo neanche immaginare cosa sarebbe potuto succedere se la scuola fosse stata aperta in quel momento. L'allerta meteo non si spegne alla polemica dei genitori e degli alunni della primaria Garibaldi. Dopo il cedimento di un grosso pino marittimo sul recinto della scuola, è accaduto un'ora dopo il suono dell'ultima campanella. Un'ora dopo il suono dell'ultima campanella. Solo per miracolo si è evitato il peggio. I bambini erano usciti a mezzogiorno e mezzo. Il grosso albero si è schiantato verso le 13 e 30. Pensate, saluto intanto Angela che sta seguendo, pensate se l'albero fosse caduto. Ci siamo capiti. Un'ora prima e saremmo stati qua a parlare di altro. Ancora, PlayStation e smartphone con 18 app. Maxi Truffa allo Stato una condanna. Una commerciante iesina permetteva l'utilizzo in debito del bonus per i diciottenni coinvolti più di 200 ragazzi. Cosa succede? Vi ricordate il bonus per i diciottenni? Quello che lo Stato mette in campo per aiutare i ragazzi a comprare libri, supporti però dedicati al tema culturale. Ci si può iscrivere per esempio a un corso d'inglese con quei soldi. In realtà ci si comprava PlayStation, smartphone, altri riprodotti di ultima generazione acquistati indebitamente con app 18. E questa è l'ipotesi accusatoria che ha segnato l'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza. Nel mirino è finita una commerciante che pare permettesse l'utilizzo in debito del bonus. Buongiorno Angela che ci sta seguendo. Andiamo ora a Senigallia. Disastro alluvione, viabilità ad ostacoli, l'ambulanza per mio padre si è persa. Lo racconta un imprenditore di Castelleone. L'ho guidata per telefono con legamenti Rebus nella vallata, anche perché tante strade sono ancora in sofferenza. E tra l'altro, tra l'altro, nel weekend c'è stata un'ulteriore allerta meteo. Cosa ha avuto come conseguenza nell'animo delle persone che sono già da quasi tre mesi, perché siamo al 12 di dicembre, 15 e 16 di settembre, ottobre, novembre, dicembre. Quasi tre mesi e ancora siamo messi, ci racconta questo residente così. La mia moglie non dorme mai, sempre in apprensione, piange e cosa vuole fare? Così è, l'allerta non ci mette in sicurezza. Ci dice solo di andare via e basta. L'ansia e la paura, da quel tragico 15 settembre, tornano ogni volta che la protezione civile di Ramon allerta meteo. Stavolta il colore è ancora più minaccioso, arancione, rischio di criticità idrogeologica e idraulica per tutta l'intera giornata di sabato. Sulle marche piove, in particolare nelle province, centro-settentrionali della regione. E così il Misa è, di nuovo, l'osservato speciale. A metà mattina, la piena da Serra dei Conti attraversa Bettolelle. A Ostra, Trecastelli, Arcevia e Senighella le scuole sono chiuse. Il sindaco Livetti ha deciso anche la chiusura di impianti sportivi e centri diurni e il rinvio degli eventi del cartellone di Natale. A Barbara, il sindaco Pasqualina è invitato tutti alla massima prudenza. Sono le scorie dell'alluvione. Conseguenze, ancora oggi visibili nel fango, che circonda le case della zona Pep Misa. Alberto Di Ambra è portavoce di 167 famiglie dell'intera zona. L'ultima esondazione è arrivata nelle nostre abitazioni ad un'altezza di metri 2,05. È stato distrutto tutto il piano terra, il giardino e perfino le mura di recinzione del fango intorno al nostro casa con uno spessore di 50 centimetri ed è diventato impermeabile alle acque e pertanto con un temporale, come ha visto, ritorna una vasca da bagno e se persiste il temporale le acque arrivano fino alle soglie delle nostre abitazioni. Il sindaco non vuol sentire ragioni per rimuovere questo fango. Il quartiere, dal 1978, ha cambiato faccia con nuove costruzioni. I residenti, distribuendo le responsabilità tra le istituzioni, le precedenti amministrazioni comunali e quella attuale, lamentano la mancata sistemazione dell'argine del fiume e che non si sia presa in considerazione nessuna opera di risoluzione e tamponamento per l'innalzamento e la soppressione dell'area di contenimento esistente prima delle edificazioni. Ci hanno messo sotto il livello del fiume perché prima, quando il fiume aveva le bizze che faceva una certa esondazione, l'acqua esondata veniva diluita in un'ampia zona e veniva assorbita. Noi avevamo massimo 10 o 15 centimetri d'acqua. Ora, con le nuove costruzioni, ha analzato il livello idrogeologico di un metro e ottanta. Questo è lo sfogo di uno dei residenti del portavoce, dei residenti di quest'area. Dall'alluvione al terremoto ci segnalano in particolare anche a Castella Raimondo è stato sentito il terremoto, un terremoto che, grazie intanto per questo feedback, viva Castella Raimondo, un paese, un borgo che amo tanto e dove spesso torno con grande piacere. Andremo tra poco a Sarnano perché è pronto il giornale su questo. Confermo sì questo episodio dall'Umbria perché ci segnalano anche dall'Umbria che è qui distante rispetto all'epicentro, al cuore della regione Marche, c'è vicino a Camerino, c'è vicino a Gualdotadino, a Mandola, a Tolentino e appunto anche Castella Raimondo si è sentita questa scossa di magnitudo 3.2 alle ore 7.40. Se avete sentito tutto questo o qualcosa che non andasse in quel momento lì probabilmente è stato il terremoto. Salutiamo ancora Castella Raimondo, torno ora a Sarnano per la slitta di Babbo Natale realizzata all'uncinetto, 2.170 quadrati granè, 11 mesi di lavoro, un anno praticamente per le donne del paese. Un lavoro lungo 11 mesi per una proposta natalizia suggestiva e assolutamente originale. L'impegno tra l'altro nel periodo delle limitazioni Covid di una delle protagoniste anche degli addobbi di quest'anno, Silvia Capri, che popolò il proprio bar My Dream di orsacchiotti, gatti, cavallini di stoffa e minions per accogliere gli avventori con allegria. Anche in epoca Covid questa squadra non si era mai fermata, complimenti per l'iniziativa. Una notizia di sport, l'Ascoli e il Genoa non si fanno male, il punto è comunque utile per il picchio dopo il coccente K.O. rimediato in casa. Ascoli-Genoa 0-0, una partita che ha avuto spesso un sapore e un contesto di Serie A, in questo caso una nobile Serie B con prospettive e sogni, perché no, di andare più in là. E non dico dove, insomma, per scaramanzia. A proposito di notizie dalla zona di Ascoli, Virzi incontra alla Piceno 300 alunni delle scuole superiori. Grande successo mercoledì per la proiezione di siccità di Paolo Virzi al cinema Piceno alla presenza di uno dei protagonisti, Vinicio Marchioni, grande attore cinematografico, teatrale e televisivo. 300 alunni delle superiori, grazie al cinema, hanno avuto modo ad Ascoli di riflettere sulla questione del climate change, del cambiamento climatico. Vi porto ora a Porto d'Ascoli, dove Babbo Natale ha fatto capolinea, accolto da una bella folla, ma lo shopping, dice il giornale, su San Benedetto ritarda. I commercianti invitano a comprare nelle botteghe domani, in centro, animazione per Santa Lucia, che è il giorno più corto che ci sia. Allegra ressa ieri alla stazione di Porto d'Ascoli, perché Babbo Natale è arrivato niente meno che in treno. Insomma, si ingegna, Babbo Natale, c'ha un sacco di visite da fare, un sacco di regali da consegnare a Porto d'Ascoli, è arrivato, appunto, vedete dalla foto, con il treno jazz. Giù le mani dei Pini, restiamo in zona San Benedetto, parliamo di ambiente, andremo pure al TAR. Non si tagliano alberi senza validi e comprovati motivi. La battaglia di questione natura, per tagliare gli alberi appunto servono validi motivi, bocciate tutte le amministrazioni, non guardano alle prossime generazioni. Qual è il contendere? C'è un tentativo di sostituire dei Pini Marittimi con delle palme, la riviera delle palme, questa è, siamo a San Benedetto, siamo a Porto d'Ascoli, simbolo di quella zona appunto sono le palme, non i Pini Marittimi. Dovrebbe esserci questa sostituzione, ma c'è un comitato che dice assolutamente no. Notizie anche legate alla zona abruzzese, perché siamo sul giornale di Ascoli e quindi il riferimento è anche a zone limitrofe, però sfogliando sfogliando arriviamo a Montegranaro. Qui c'è una notizia di sport, anzi dell'altra parte dello sport, quella più brutta. Arbitro spintonato dopo la partita, batte la testa, finisce all'ospedale. Siamo a Montegranaro, aggredito dai dirigenti dopo la sconfitta in casa della Sutor contro l'Attila Junior Porto Recanati. Follia alla bombonera. Al termine della partita del campionato di basket Serie C Gold, tra la Sutor Montegranaro e l'Attila Junior Porto Recanati, giocata sabato pomeriggio, uno dei due arbitri è rimasto ferito a seguito di un diverbio con la dirigenza della squadra locale. Tutto sarebbe accaduto subito dopo la sirena di fine partita attorno alle 20. L'arbitro sarebbe stato appunto spintonato, cadendo, avrebbe battuto la testa, finendo poi al pronto soccorso. Di nuovo i vostri messaggi. Ho visto che c'è stata una scossa, ci dice Davide, sì ne abbiamo parlato caro Davide. Ciao ragazzi, buon inizio settimana. Non capisco una cosa a proposito della crisi del lavoro. Forse voi che state in mezzo alla redazione e tante notizie potete aiutarci. Ma perché in Italia da anni non si riesce a trovare una proposta seria a tempo indeterminato? Una volta era in prova un mese o due e poi diventava automaticamente a tempo indeterminato. Adesso tutti i contratti ripetuti, di poco tempo, senza stabilità. Ma perché è così difficile? Ciao da Vera. È cambiato il contesto economico, cara Vera, purtroppo. Ma è vero anche che rispetto a qualche anno fa, nell'ultimo periodo in particolare, ci sono tante aziende, tante realtà che cercano lavoratrici e lavoratori. Ho fatto l'esempio qualche tempo fa di un atelier, di una boutique di alta moda, Area T di Tolentino, dove ho parlato con la responsabile Cinzia Leonori, che saluto con grande affetto. Mi raccontava che non riescono a trovare una persona che faccia la commessa per professione, anche per passione. È un lavoro importante e delicato. Bisogna avere anche un mestiere dietro. Non trovano. Anche l'azienda, la Tombolini, non trova urlatrici, persone che ricamino i vestiti fatti a mano. Insomma, non è facile. La nostra piccola Perlanconetana, intanto Portonovo, si attacca. La vogliono far sparire. E' il commento di Ale sulla questione delle, credo, delle somme che a livello PNRR saranno destinate al ripascimento delle costiere. Ecco qua, effettivamente la zona di Portonovo non è segnalata, tra i comuni che prenderanno tanti soldi. 9 milioni per esempio per Porto Recanati, dove abbiamo raccontato davvero ci sono tanti tanti problemi. San Benedetto, 6 milioni e mezzo. Saluto intanto Claudio. E poi ancora Civitanova, Porto Sant'Elpidio, 8 milioni e mezzo. Soprattutto nella zona tra Potenza Piccena, Civitanova, Fermo, Pedaso e San Benedetto. E' la parte da leone di questi 40 milioni che arriveranno grazie al PNRR. Sono 10 interventi, scogliere e ripascimenti. Si commentava effettivamente un amico di Porto Recanati, scusate di Portonovo, diceva non ci sono buona notizia, non arriveranno dei soldi. Da 30 anni invece mi dicono non sentivo parlare di Frascarelli, un piatto della tradizione marchigiana che ci preparava mia nonna quando andavamo a trovarla ad Ancona. Buonissimi, ci scrive Cinzia che ci manda anche una bellissima foto della zona di Pesaro. Guardate che meraviglia, viva il Pesarese, viva tutte le zone da cui ci scrivete, ma viva in particolare coloro che ci mandano foto per condividere i loro scorci, le loro finestre, i loro panorama. Sui Frascarelli perché ci scrive Cinzia questo? Perché abbiamo trovato una notizia molto carina sul Corriere Oggi Online, oltre alla slitta di Babbo Natale, eccola qua, da Sarnano, fatta con l'uncinetto. Sì, cari bimbi, non vi preoccupate, funziona anche quella per portare i regali. Ma la notizia sui Frascarelli, qui c'è un errore di stampa, Frascatelli, Frascarelli, Cingolani, Rita, Adriana e Brunilde sono le nuove regine dei social con migliaia di visualizzazioni. Eccole qua, queste tre signore, queste tre vergare marchigiane, credo di non offendere, anzi mi piace questo termine, per me è un termine di complimento. I Frascarelli, Cingolani, preparati da tre massaie, diventano un fenomeno social. Il piatto povero della tradizione marchigiana, grazie a un video girato su YouTube, Instagram e Facebook, ha complessivamente ottenuto quasi 15 milioni di visualizzazioni. E su Instagram sono stati superati 310.000 like, il filmato è stato pubblicato in una pagina ufficiale, ve lo recupererò magari, dai, complimenti a Rita, si chiama come la mia nonna materna, la mamma di mamma, Rita, quindi un nome a me carissimo, Adriana, come quella di Rocky Balboa, Adriana, Adriana, lo ricorderete? Poi Brunil, nome bellissimo, molto poetico. Complimenti a queste signore. A proposito di cinema, abbiamo citato poco fa Rocky Balboa, una visita cinematografica, una visita da film, quella di ieri di Sebastiano Somma nel cuore delle Marche per scoprire i capolavori dei Crivelli. Il fascino dei Crivelli conquista anche Sebastiano Somma. L'attore e regista tra i più amati nel panorama della TV, della cinema e del teatro italiano è stato ospite di un tour nel cuore dell'Unione Montana dei Monti Azzurri, grazie all'invito del presidente dell'ente Giampiero Feliciotti. Il momento più emozionante, la visita alla chiesa di San Martino Vescovo, a Monte San Martino, al cospetto delle opere dei fratelli Carlo e Vittorio Crivelli, che nel 1988 catturarono anche il re Carlo d'Inghilterra. Non posso peraltro che ringraziare l'amico Feliciotti che ci ha coinvolti in questo viaggio, il presidente della comunità Monti Azzurri e il sindaco che ci sta ospitando, ma anche chi ci ha accolti con il suo racconto. E' una bellissima opportunità di poter raccontare a me stesso che ho visto quest'ora, ma anche divulgarla anche nei miei prossimi viaggi, spostamenti e raccontare di questo luogo meraviglioso che ho avuto la fortuna di incontrare, grazie a questo lavoro che faccio ormai da 40 anni. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. Buongiorno. Grazie a tutti. 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 un video. molto curioso. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. in italiano. Grazie a tutti. sono vecchi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.